Amici anzi miei ben trovati qui sono Mandragaming che è il canale più fortunato del tubo ragazzi perché può contare su degli amici iscritti che ti fanno addirittura i regali su Steam veramente apriamo questa rubrica ragazzi quindi perché veramente è un mio dovere è un mio piacere innanzitutto ringraziare in rigorosissimo ordine cronologico il primo amico iscritto che mi ha fatto un regalo credo il 26 dicembre in questo modo Mr. Unlucky quindi caro Mr. Unlucky io ti ringrazio per Sanctum 2 perché sei andato addirittura a vedere la mia lista di desideri effettivamente è un gioco che mi ha sempre incuriosito perché è un misto di fps tower defense quindi è un gioco misto ma che fa tutto per bene quindi direi di iniziare una partita quindi tantissime grazie Mr. Unlucky sei veramente un grande quindi poi a seguire ci saranno altri gameplay delle miliardi di amici iscritti che mi hanno fatto un sacco di regali mi avete davvero reso felicissimerrimo quindi non so cosa sta accadendo o un casino siamo già morti ancora prima di cominciare probabilmente let's get started ok si allora così corro ok mi sembra mirror set si assomiglia benissimo vai corri siamo nella fottuta merda stai fotografando sei veramente brutto lo sai ma state facendo gli sboroni davanti agli alieni morti che cosa avete combinato ok vai come zombie ma non posso sentire rifarmelo sentire oddio prendi la tua fottuta arma ok non si ho fatto una cazzata pensavo di mirare invece ho sparato una bomba incredibile ok sta per esplodere tutto ragazzi dobbiamo correre dobbiamo premi LMV per sparare oh merda coccozza sei tu ma vai a cagare coglione aspetta ricaricati ricaricati che schifo ragazzi ma e questa è carne aliena tipo è una roba schifosissima ci hanno fatto pure il sonoro della melma spiaccicata ok vandra che cosa schifosa stai dicendo ok io ho cambiato anche arma non diamo insomma un alieno che incorre un povero civile vabbè lasciamo perdere lo lasciamo morire nel suo aspetta forse lo dai proviamo a salvarlo dai no non si può è un vetro infrangibile questo è spaventato space per saltare ok 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 qui non si può non si può andare a salvare il nostro amico pazienza ce ne faremo una ragione la grafica è molto carina pulita ok qui c'è anche la mappa premi CTRL per usare il mino dell'arma oh ok ok ferma attenzione ok è morto è morto ok usa SCRL per sensoriale una torre cos'è SCRL la ma che cazzaro la è la SCRL vabbè ok per selezionare una torre dov'è la torre eccola eccola ok ehm si mandra sei bravi ah vabbè invio ho selezionato invio vabbè get ready get ready ok vai ok è morto aspetta voglio provare l'altra arma boom oh adesso vi sbraco tutti stupidi idioti mi sa che c'è meglio cambiarlo ok mi sembra un pochino più efficace per il momento ok vedete quindi voi potete difendere cioè le vostre stesse torri in prima persona quindi piuttosto che rimanere lì inermi premi ehm per selezionare ho ancora una torre di nuovo ma mira la torre tieni per un modo libero e potenziarla ok baby ok la potenziamo sbraghiamo tutto ok ctrl per il mirino ok ovviamente cioè questa è una sorta di tutorial ragazzi non c'è bisogno che ve lo dica lo sapete meglio di me e io vi spacco tutto vi spacco tutto perché voi non dovete rompermi la minchia detto anche come si dice in Francia oai ti prego ti prego questo è grosso questo è cambiarma cambiarma grazie grazie torre mia mia dolce torre torre dolce non andate a rompere le palline alla mia torre l'ho potenziata apposta nice nice ok vendi la torre elettrica nell'angolo e tieni premuto RMB per vendere una torre RMB right mouse button ok venduta e adesso e adesso e adesso che mi hai fatto vendere questa cosa secondo te sei stato carino cioè la potenzio ancora di più ok quindi c'ho tipo un potenziamento a ondata non posso fare di più sicuramente perché è l'inizio sicuramente più in là nel gioco così oh cazzo aspetta sparate la torre ok no non sparate la torre sparate i nemici sono fottuto sono morto non so che sono morto non so dove vai fermati qua merdaiolo fermo 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 non toccate il mio fottuto nucleo oh merda è il mio nucleo non toccate il mio nucleo stupidi stupidi aia tacci vostri ahahahah che sta a fare muori mi sta spaccando mi sta spaccando uomini di origini achievement sbloccato victory e questa sarei io oh done vado a livello 1 yes yes ok ok devo dire che per essere stato il primo livello hai sbloccato mitraglietrice ho subito anche troppi danni per i miei gusti sì 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 ok continuiamo sono una ragazza molto figa in questo gioco introduzione e parco ok le sto facendo fuori più che posso ma sembrano infiniti e che diavolo è questo terremoto continua così sorella penseremo noi a questo casino io sono magra a dir poco piatta come una tavola con un cannone così in mano quindi seleziona un personaggio oh arma fucile d'assalto abilità primaria infligge danni sempre maggiori ma meno che colpisce un nemico oppure sweet autumn i colpi incendi dei nemici lanciarazzi Rex oppure simo fucile di precisione infligge danni crescenti e punti deboli ai punti deboli di ogni colpo in base ai danni infitti prima una precisione migliore oppure Hagen Hawkins arma principale fucile a pompa che è l'arma preferita del mantra infligge danni maggiori quando spari nemici a distanza ravvicinata a più salute ok mi piaci tu mi piaci tu mi piaci tu allora come torre scegliamo quando viene potenziata la città di danni ventano notevolmente ma la pulizia di fuoco diminuisce buona torre completa costo 140 risorse oppure mitragliatrice buona contro gli spondici arma e nemici deboli io direi questa perché contro i nemici grossi ci sono io con il mio fucile a pompa questa si può migliorare ok abbiamo un'altra arma da porre del me ok schioppo voltaico fuoco primario lancia delle sfere elettriche ah si questa qui che abbiamo visto nella prima mappa ok direi che abbiamo deciso tutto e possiamo accettare ok baby adesso sono io con il fucile a pompozzo ok arriveranno tre nemici da quella parte quindi vediamo un po' potenziamo questo come ci ha insegnato il primo tutorial ok nemici in arrivo ok tre nemici da qua boom boom ecco vedi due colpi è andata è così che dovrebbe funzionare in qualsiasi gioco boom oh mas paci tua perfetto perfetto pari uno c'è due miro miro puntare mirare vuoto vuoto ondata completata ok ok direi di ah ok ah con la rodellina posso modificare quello che io voglio quindi questa è la mitragliatrice presumo si è la mitragliatrice la piazziamo allora considera che i nemici arriveranno da lì quindi la piazziamo qua vai con l'invio ok dov'è la mia ah no 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 non l'ho messa stupido idiota mandra non l'hai messa stupido mandra non l'hai messa mandra mandra non l'hai messa non l'hai messa non l'hai messa sei fottuto mandra sei fottutamente fottuto ma volete morire una volta per tutte dannazione sparate 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 amici mitragliatrini mitragliatrini cos'è che sta a fare l'ucentr ma io vi sfondo stupido devi morire cos'è quella cosa ah il mio nucleo cos'è quella cosa il mio nucleo aspettatemi no il mio nucleo il mio fottuto tacci vostri crema crema che pena che pena ah great ho capito che vergogna hai sbloccato torre elettrica gli slot per torri ti permettono di usare una torre aggiuntiva eeeh riavvio il livello che vergogna ragazzi ho perso al secondo al secondo livello e non avevo inquadrato dove era il mio nucleo ragazzi purtroppo sono rincoglionito e questo lo sapete benissimo ma mi saprò rifare quindi prendiamo il nostro amicherrimo e ci piazziamo ah torre elettriche i colpi rimbalzano se viene potenziata buono contro nemici pesanti eeeh ok si dai la proviamo questa è nuova la proviamo ok quindi infatti me lo segna proprio che il nucleo sta tipo qua ok il nucleo sta qui quindi io faccio guarda la metto subito la mia torre la mia mitragliatrice c'ho la manovella sensibilissima ok la piazzo tipo qua la piazzo qua ok adesso adesso l'ho messa perfetto quante risorse mi sono rimaste 100 100 e io guarda ne metto un'altra qua ok c'ho tutto ok adesso col ceppo che passate ok questa costa 14 io la metto aspetta però tipo la posso mettere ma si che la posso perfetto perfetto ok ok allora te credo che hai perso mandra non hai messo praticamente nulla di quello che hai a disposizione ok finito tutto quindi possiamo partire dai venite a fare spiritosi infami boom aia venite a fare spiritosi dai adesso ho tutto coperto ho tutto coperto siete fottuti boom boom ok col tasto destro sforo tipo due colpi insieme mi piace questo shot canna ragazzi ok ok allora facciamo così innanzitutto andiamo a occupare anche quest'altra ecco così chiudiamo proprio tutto no non lo posso costruire per non so quale motivo non fa niente guarda io metto una mitragliatrice qua perfetto ah vedi dalla mappa mi fa capire anche l'unico punto in cui è accessibile dal nemico anche io visto che non lo posso coprire non so perché ripeto ci piazzo un ceppo perché non posso non posso metterla lì non posso metterla lì beh ok qua ci ho messo una mitraglia io per sicurezza ne metto anche qui nel caso dovessero passare la metto qua ok sì siamo pronti dicevo col tasto destro ti tieni un colpo in canna ne spari due anche ah lo puoi fare più di una volta allora benissimo ho crepato e sopite sopite ok ma il mio mitragliatore non spara ecco fai qualcosa per cortesia grazie oh 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 no 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 siete troppi siete un po' troppi per i miei gusti non passerete tu non puoi passare 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 cambiarma cambiarma vai spara 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 oh non toccate il mio nucleo che vi sfondo ok col tasto destro fa sempre il colpo più potente lo vedi lo vedi che non mi toccano nemmeno non me nemmeno più allora andiamo un po' se lo posso secondo me non lo posso mettere perché non è previsto proprio dal gioco perché sennò loro non potrebbero più passare quindi vediamo li devo li devo comprimere vediamo ne metto una qua che così rimbalzano i colpi la metto qua così perfetto poi metto un'altra perché mi è diventato lo schermo grigio come se stessi per crepare non lo so bene mi era diventato lo schermo grigio poco importa ah perché mi sta finendo il tempo di ok aspetta 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 mi proteggo mi proteggo mi proteggo ok siamo pronti dai fatete sotto dai boom 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 ok siete troppi eh ragazzi siete veramente troppi amici amici siete troppi siete troppi per i miei gusti ok cambio arma nel frattempo questa si sarà ricaricata benissimo fermo là dove vai boom non dovete toccare niente non toccare il mio fottuto lo ti prego siete troppi dai dai ricaricati ok tu sei ricaricata ok e adesso bim ondata completata ok ok ci siamo devo mettere più roba ragazzi devo mettere più cose nel caso in cui proprio passino una qua e ok lo scudo non lo posso mettere ancora ok si li faccio proprio free ma lo posso mettere anche qui sopra ok ok allora guarda ne metto un altro qua così perfetto ok siamo pronti vai adesso li ammazzo tutti vieni vieni venite venite ancora avvicinati avvicinati ci pensi tu o no e si perchè i nemici più vanno avanti ma che sa tu porca puttana oh merda oh cazzarola quello è grosso quello è grosso questo è grosso non vedi che io ho fatto dolore dolore via 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 questo gioco mi intrippa ragazzi mi intrippa mandrosamente oh cazzo si fanno sempre più uncazzosi due ricarica ancora 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 poooom non mi dico che gli ho fatto un dolore fisico estremo oh cazzo porca puttana fermo fermo ricaricati 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 ok boom yes non oso immaginare che cosa sia l'ultima ondata bene cose buone dal mondo ragazzi quindi io metto questo lo metto qua ne metto poi un altro qua perfetto e ci metto uno scudo protettivo da questa parte e ci metto anche ecco lo metto qua perfetto ok siamo pronti per l'ultima ondata sembra tipo un titolo di un film catastroficerrimo l'ultima ondata oddio chi sono questi è sponge Bob spongi derma questi lo so che mi fanno male fortuna io lo so che questi mi esplodono mi esplodono in faccia hanno una testa a forma di pene e quindi quando è così è molto pericoloso aspetta che li carico tutto il 5 guarda boom l'hai sentita sta stecca l'hai sentita ho caricato 5 colpi sei fottuto quando è così e calla aspetta che ne carico un altro 5 aspetta 4 5 6 e boom ma non gli ho fatto male come prima è più resistente possibile ti prego ti prego fermati devi fermarti piccolo amico piccolo bambotto di D oddio un altro no non reggo non reggo non reggo non reggo botta no ho mancato il colpo ho mancato amandrosamente il colpo da pippone ok cambiarma 3 ricarichate ancora 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 boom ok ok non hanno toccato il mio nucleo yes yes ok basta è finita quante altre ondate non è 6 su 6 c'è scritto oh pazzoidi ma io espondo ok ne metto uno qua è finita basta basta scudi vai siamo pronti ondata finale oddio già mi immagino che fermo fermo là t'ho detto fermo lì non mi dai mai retta ok cambio arma vai 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 ti prego ti prego ti prego ti prego spara cambiarma ok vai ok uno due aia ma che te spudite schifoso ricariche di cambiarma vai ok bravissimo ancora cambia ancora arma attenzione attenzione non farti intimidire che ce l'hai tu ce l'hai qua ce l'hai sei incredibilmente difensivo va benissimo va benissimo merda no 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 aia non mi dovete far male però perché io sembra non sembra ma io sono vostro amico oh cazzo ci stanno pure quelli no no le devo sbrigare uno due tre ok ok spara spara cambiarma cambiarma quella roba fa male quella roba fa male fa male il mio scudo il mio scudo ti prego 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 il mio scudo il mio scudo merda non toccare il mio scudo oddio io pensavo che era esploso il mio il mio nucleo ballano tutti quando vincolo mi piace sta cosa ok livello 4 io ti ringrazio davvero mister all'aghi mi sta piacendo davvero tanto questo gioco sicuramente continuerò a giocarci quindi ti ringrazio per questo tuo pensiero seguiteranno altri gameplay dei vostri incredibili regali fino a quando ci saranno quindi forse addirittura 5-6 video non lo so ragazzi quindi io veramente vi auguro una buonissima giornata di nuovo grazie mister all'aghi ti auguro una buona giornata anche a te e vi ringrazio e vi rimando al prossimo video ciao